siamo in gamba aperto ma ero in una casa? è proprio in una casa perchè io non distingo no no vedo il cammino muoversi corro in avanti perchè devo vedere un secondo vado verso la luce vado verso la luce sono sicuramente al secondo piano perchè è una casa di quelle rosse che ci hanno due entrate ah ecco adesso distinto ok allora ragazzo vado a vedere se c'è troppo ah le porte sono chiuse c'è un taxi vado a vedere se c'è troppo ah porca troia sono sponata a un aeroporto sono sponata all'airfield merda all'airfield? ah no devo venire a voi devi venire a noi? si ma hanno spento la luce? no può essere che si è asaurito il fuoco ok ok la vedi ancora? allora vado sulle finestre dietro che dalla collina riesco a vederci vedere dentro casa ok perchè sono più rialzate ok ti vedo tu sei il cartello vero? eh più o meno vicino alla macchina ok si 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 ho visto si forse vedo qualcuno dentro si un contatto dentro lo vedo forse sono più di uno che di zombie qua in giro? no ed che dici? lo provo? aspetta aspetta vediamo ed ce l'ho sulla finestra è fermo eh e allora spara fanculo ti è spostato scommetto? spostato no forse sono due eh sono due all'interno provo con una granata che dici? non giacchia però mai non giacchia però mai vero però hai metti paura ah ma sono due sono due me lo metterò all'ingresso vedi come fanno una botta non ce l'aspettano una granata anche perchè non si sente uno è giù hai ucciso? semplice semplice c'è anche l'altro giù e ce n'è un altro eh? si ce n'è un altro è passato uno sulla piosta non mi direi che anche il terzo è giù no il terzo no per fortuna sua no forse è uscito fuori eh si è uscito fuori mi è passato vicino però non è vero si è uscito fuori è uscito fuori sei alla casa due ed? si alla casa di fianco eh lui è il corso verso di qua potrebbe essere questi gesti eh mauro sono spanato mauro va bene va bene eh aspetta un attimo andrea aspetta un attimo no no aspetta un attimo andrea ok 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 hai capito? io sono nella casa di fronte i tu? hai preso? no vado verso la casa dove erano no? vai vai gliutti sono morti dentro a Sì, 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 sì.